Abbiamo un enorme problema ai giorni nostri Dobbiamo per forza essere catalogabili Ognuno di noi deve svolgere un'unica mansione Ovviamente deve essere il migliore La competizione è alta, tutti ci sono dentro Io ad esempio non rientro in nessun catalogo So di saper fare qualcosa, ma non ho ancora capito cosa In realtà non è che a me piaccia fare qualcosa in particolare Cioè nel senso che ho tantissime passioni Mi innamoro continuamente delle persone, delle cose, dei lavori Lavori, strano chiamarli così Come se qualcuno mi pagasse per quel che faccio Sono un multipotenziale, così mi hanno riscritto Che in pratica vuol dire Non servi per nessun ruolo specifico in questa società Io non so cosa sono, almeno questo lo so, mi è chiaro So di non sapere cosa sono Non sei già che fai, sei già che mangi Quindi io sarei un cumulo di pasti precotti sul gelato E poi perché mi chiedo cosa sono? Dovrei chiedermi chi sono Ma io lascio stare Perché roverarmi la festa proprio adesso Quello che stavo dicendo inizialmente nel discorso Ricordatevi Siamo tutti esposti Tutti pubblicizzano qualcosa C'è chi pubblicizza il suo modo di essere O magari come potrebbe apparire Chi le proprie idee O magari qualcosa che ha sospetto di chi lavora Insomma YouTube ha qualcosa da dire Da far vedere E segue anche un percorso narrativo ben specifico I miei social A paragone sembrano paradossalmente mercativi Del tutto 50 centese Anche se In tutto questo discorso Ho scoperto Che non voglio essere una cosa sola E va bene così